Buongiorno a tutti i telespettatori, di mattino 6, oggi sabato 15 settembre 2018, vogliamo come di consueto passare alla nostra rassegna stampa, vogliamo subito cominciare con la lettura delle prime pagine dei giornali regionali e subito con il centro di Pescara che ha come titolo di copertina, trucca per 12 anni e l'orario di lavoro, Pescara dipendente IMSS licenziato e condannato a restituire 42 mila euro, nelle cronache poi troveremo all'interno Pescara, nel Pescara vecchio stadio rampigna via ai lavori per 800 mila euro, inoltre incidente a Manoppello, fuoristrada per un cindiale, ferite due donne, città Sant'Angelo, Florindi niente regionali, resto sindaco. Il titolo in basso, Pilon Pescara, obiettivo 3 punti, serie B biancazzurri oggi sfidano il breccia, al rigamonti rientra Fiorillo. Adesso vogliamo passare sempre al centro, la prima pagina questa volta della provincia di Chiedi, Lanciano e Vasto. Il titolo di copertina di primo si dimette per la regione. Chiedi il sindaco lascia e tenta la scalata ma ha 20 giorni per ripensarci. In alto il titolo Blitz di Forza Italia, occupata l'aula del Consiglio regionale. Sempre in merito alle regionali, nuovo strappo, bella chioma, sfida pagano, il candidato sarà leghista. Il Tar, i giudici domani, la caccia può partire. Anche in questo caso abbiamo il titolo, la foto di copertina, la nottata riempie la città di musica, colori e folklore. Ci troviamo sempre a Lanciano, pienone per la ricorenza della Madonna del Ponte. In basso il titolo, vediamo, trattore si rovescia, muore schiacciato. A San Salvo, incidente durante la vendemmia, è il secondo nel Chietino in quattro giorni. I titoli di box a sinistra, sempre Lanciano, spaccata al bar, quinto colpo nel Frentano. Vasto, la zona di Vasto, feste patronali in arrivo Tech Colors. Ortona, invece all'acqua bella la terrazza dedicata a Tosti. Vogliamo adesso passare alla prima pagina sempre del centro, questa volta della provincia di Teramo. Il titolo di copertina, teatro romano, niente referendum. Teramo raccolte 1100 firme, ma ne occorrono quasi 4000. Titoli dei box di sinistra, vediamo, vede incrociati, provincia Rebus sui candidati a presidente. A Roma giudice annulla oltre 130 multe alla Gaspari Bus. Il comune di Silvi riassunti i quattro autisti di scuola Bus. Ci spostiamo adesso, sempre il titolo in basso, nella zona del comune di Giulianova. Muore tre giorni dopo l'incidente. Di Giulio Antonio non ce l'ha fatta. Addio al 75enne, ex consigliere comunale. Vogliamo adesso spostarci, sempre nella prima pagina del centro, questa volta della provincia L'Aquila, Avezzano, Sulmona. Il titolo di copertina, centro storico, fondi a 131 attività. L'Aquila, Lolli, arrivano altri 8 milioni con il bando per i nuovi esercizi. Vediamo la foto di copertina. L'Aquila, 7 nuove state, via Matris, fedeli in processione con lo scultore reggbista. Nei box di sinistra, sempre nella zona dell'Aquila, niente infradito e terremotati in quattro sotto accusa. Ci spostiamo a Roccaraso, mondiali e veleni, nei guai storace, l'ex e l'ex vice sindaco. Avezzano, Avezzano Calcio, vota la squadra storica a un concorso per il centenario. Vogliamo adesso il titolo in basso del centro. Torna una scuola solo per spacciare. L'Aquila, due ex studenti arrestati nel polo di Acquasanta, in casa Mariuana e Soldi. Vogliamo adesso spostarci alla prima pagina del messaggero dell'Abruzzo. Inizia col titolo di copertina. Chieti si dimette di primo. Il sindaco lascia il comune per candidarsi con il centrodestra. Bagarre sulla data del voto. Forza Italia occupa l'Aula del Consiglio regionale. Lolli, chiederemo, decideremo la prossima settimana. Poi sulla questione di Bussi. Il CSM toglie al giudice due mesi di ansietà. Romandini è andato a cena con i giurati, ma non ha influenzato le loro decisioni. Nella foto di copertina del messaggero, all'Aquila arrestati due ex studenti. Un terzo è indacato. Spacciavano droga davanti alla scuola. Vogliamo adesso spostarci al quotidiano La Città, quotidiano della provincia di Teramo. Apre con il titolo di copertina. Idea studentato all'ex ospedaletto. Il Vescovo di Teramo molto interessato al progetto di riqualifica di corso Porta Romana. Anche qui nella foto di copertina. Tutto bloccato. Scuola a bus. Riassunti tutti i licenziati. Il sindaco di Silvi. Scordella. Media tra azienda e sindacati. Verso le regionali. Mastro Mauro fa il bilancio e si prepara per le dimissioni. Martinsicuro. Droga nascosta in spiaggia. Quattro condanne. Adesso abbiamo concluso con le prime pagine dei quotidiani regionali. Vogliamo passare adesso alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Iniziamo subito con il Corriere. La prima pagina del Corriere della Sera. L'idea sui migranti. Al vertice europeo. Salvini tutti via. Botta e risposta col ministro lussemburghese. Anche qui troviamo la foto di copertina. Un mese dopo la tragedia di Genova. Cosa manca al decreto ponte? Il richiamo. Mattarella e il bilancio UE. Non si mercanteggia. Vogliamo adesso vedere il titolo di copertina del quotidiano. La Repubblica, Lega e Movimento 5 Stelle volano al 60%. Porti chiusi. Sì di un italiano su due. PD al 17%. Manovra 8 miliardi per la pensione di cittadinanza. Tasse giù alle imprese. Anche vogliamo adesso passare alla prima pagina del Fatto Quotidiano. Il titolo di copertina. Anas si proroga la concessione. Toninelli, bloccate il bilancio. Far West Autostrade con l'appoggio di FS allunga di vent'anni l'affidamento. Consiglio di Stato. Regole nuove, risultato vecchio. Patroni griffi. Ecco perché se ne va. Navas corretto e fuori legge il report della Consob. Passiamo alla Genova. Conte a Genova un mese dopo. Dieci giorni per il commissario. Ponte Morandi. La Lega ha ceduto sul decreto. Ora vuole un suo uomo al comando. La prima pagina del messaggero nazionale. Più fondi per le pensioni e reddito. Nella manovra spuntano 17 miliardi per finanziare il programma di Movimento 5 Stelle e Lega. Ma può slittare il taglio IRPEF. BTP, investitori esteri in fuga. Meno 35 miliardi a giugno. Vediamo la foto di copertina. Un minuto di silenzio. Questo è il nostro ground zero. Genova prega, poi urla. Ora il ponte. La scelta del commissario slitta ancora. Il ministro contro l'ambasciatore a Bruxelles. Savona chiede l'allontanamento di Massari e su Draghi si è dato poteri non previsti. Vediamo infatti la foto del ministro Savona. Lo scontro tra Salvini e Lussemburghese sugli italiani immigranti. Vienna, l'attacco di Hasselbrod, venivate da noi la replica, una lezione da un paradiso fiscale. Vogliamo adesso passare alla prima pagina di Libero. 700 mila truffatori. Il 50% dei fondulloni lavora in nero e avrà reddito di cittadinanza. Rapporto Euroispes. Metà delle persone in cerca di un posto ha già un impiego. Nascosto al fisco. Tutta gente che incasterà la mancia grillina. Bella schifezza. Nella manovra rischio il taglio delle tasse. I pochi soldi li sperpera Di Maglio. Mette il quotidiano Libero. Una foto di ricordo 12 anni dalla morte. Follia e bravura di Oriana Fallaci. Vogliamo adesso passare al quotidiano Il Manifesto. La prima pagina. La grande febbre del debito italiano. Nuovo record assoluto e non si ferma l'esodo dei capitali esteri. Il manifesto, come vediamo, ha messo una foto di copertina. Il dolore di Genova. A un mese dal crollo del ponte Morandi, la città commemora le 43 vittime. Tanti occhi lucidi e due richieste al governo. La verità è un nuovo ponte sicuro. Ma un vertice tra Conte e Toti e il sindaco non sblocca lo stallo. Per il commissario rinvio a lunedì. Vogliamo adesso andare avanti. Il sole 24 ore. La prima pagina del sole 24 ore. Accelera la vendita di BTP dall'estero. Ora sono scesi al 28,3%. Un altro articolo nel box centrale. Pronto il DL leghista. Coniscire doppio sconto fiscale sui titoli di Stato per le famiglie. Adesso vogliamo vedere la verità. Il titolo di copertina di questo quotidiano. Lo scoop della verità. C'è un'indagine sull'Air Force Renzi. Esplode il caso del superconsulente del MIT condannato. Forza Italia pretende le sue dimissioni. Intanto Gaetano Intrieri rivela. La finanza sta verificando i conti sull'easing del veicolo di Stato. E dice. Vogliono farmi fuori perché ho in mano il dossiere su Alitalia e i Benetton. Vogliamo adesso nel titolo riportato a destra. I tagli IRP e Farischio. Ben 117 miliardi di detrazioni. E lo Stato non sa se servono o no. La nuova moda, nell'articolo in basso, la nuova moda dell'UE. Insulti all'Italia. Salvini parla al vertice di Vienna sui profughi. L'omologo del Lussemburgo sbrocca con tanto di parolacce. Intanto il ministro Grillo ci dice. In troppi pagano di tasca loro la sanità. Adesso c'è la foto di copertina che ha messo il quotidiano La Verità. Persino il Dailama, svolta sugli immigrati, tornino a casa. Il mattino quotidiano di Napoli. Lega e Movimento 5 Sfelle. Sfida a Tria. Suppensioni e reddito. La richiesta di alzare i fondi della manovra oltre i 30 miliardi. Prima riduzione IRPF in bilico. Savona. Draghi si dà poteri non suoi. Invece gli articoli al centro. Punto di Vespa. Gli alleati, il ministro e la variabile. Sondaggi. Migranti. Lite Salvini-Lussemburgo. Libia e trafficanti di uomini. Dietro gli attacchi. Asserrai. Adesso vogliamo vedere gli articoli riportati in basso. Terremoto ad Ischia. Riaperto il condono. Pressing degli esclusi. Il decreto. 15 mesi per esaminare le vecchie richieste. Tre comuni scrivono a Conte. Ora inserite anche noi. L'articolo del box riportato in basso a destra. Appello del Q8. Licenze pilotate assolto Cosentino. Accusatori. Indacati. La foto di copertina è il caso al liceo San Nazaro di Napoli. Ragazzi seduti nei coritoi. Classi piene, studenti e prof. Al mare. Vogliamo adesso andare con la prima pagina del quotidiano Il Tempo. La sanità del Lazio non paga. Così le imprese muoiono. I dati sciocchi sui crediti vantati dai fornitori che lavorano con le asle. Tempi medi di 5 mesi. 190 giorni a latina debiti per 220 milioni. Vogliamo adesso vedere un altro articolo. Non solo Lilli, ogni media è antipopolo. La Grupert e l'infamia Mezzostampa. Anche Il Tempo mette una foto di copertina che dice, pare brutto, che alla Chiange ci chiedono 49 milioni di risarcimento. La lega razzista Kenji ha processo. Vogliamo adesso, sempre nell'articolo in basso di copertina, la disponibilità lezioni obbligatorie per l'integrazione, ma la città si ribella. A scuola arriva l'ora di rumeno. Vogliamo adesso spostarci, dopo aver letto la prima pagina del quotidiano Il Tempo, alla stampa. Salvini lancia la sfida. Ai popolari europei faccio il tifo per l'AfD. Migranti allarme del Viminale sui barchini. Incidente con Lussemburgo. Intervista Renzi. Il Movimento 5 Stelle responsabile degli attacchi sul web a Mattarella. Vogliamo adesso vedere la foto di copertina. Campioni d'Italia, un paese di poveri, dopo il crack del Casinò. Adesso ci vogliamo spostare, dopo la stampa, al quotidiano Il Giornale. La prima pagina. Guai per Palazzo Chigi. Governo sotto tutela. Mattarella, commissari ai conti e stop ai sovranisti. Il documento sciocca. L'Italia sull'orlo del baratro. Immigrati. Salvini in guerra con il Lussemburgo. Vediamo, ho messo due foto di copertina. Così ho bevuto il rum più vecchio del mondo. Addio al maggiolino. Volkswagen uccide il mito. Adesso nei titoli in basso. Vogliamo vedere sempre sulla ricostruzione di Genova. Conte c'è, Genova, Conte c'è, fischiato o no. Il premier temporeggia. Arrivano le prime contestazioni. Vogliamo adesso spostarci alla prima pagina del secolo d'Italia. Fine dell'invasione. Inoltre, un altro. Il secolo XIX. La prima pagina del secolo XIX riporta a Genova il dolore e l'orgoglio. Crollo del ponte un mese dopo. Al mattino, il minuto di silenzio nel pomeriggio 15.000 a De Ferrari. Todi e Bucci chiedono garanzie. Conte in piazza promette il sub per commissario in tempi rapidi. Ma il decreto resta nel limbo. Dopo l'incontro col sindaco e governatore, tutto rinviato a martedì. L'intervista Renzi accusa, nel box di destra, Movimento 5 Stelle, mandante degli attacchi di Amattarella. Sempre nel copertino, nel box di destra, svolta nell'inchiesta, Russia Gate, Manafort, apre il libro e Trump trema. Dopo il secolo XIX, l'avvenire. Parole come pietre. L'Italia contro tutti. Mattarella rischi da nazionalismi e rotture con l'UE. La foto di copertina è il Papa Pellegrino da Tom Puglisi, martire della fete. Corte dei Conti, caso Diciotti, sindaca per danno erariale. Adesso vogliamo vedere in basso, sempre su Genova. Genova piange e chiede sostegno per ripartire. Adesso vogliamo passare alle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Il Corriere dello Sport. La foto di copertina Ancelottismo. Mentre Sari conquista la Treccani, il super vincente riparte da Quattro Gatti al San Paolo, purtroppo. Ore 18, in Napoli si affronta la Fiorentina in uno stadio mezzo vuoto. Il tecnico punge i nostalgici di Mau. Il mio calcio è diverso, conquisteremo la gente. In basso, sindrome, Kimi. Sbagliano tutti. Singapore, Raikkon, Re delle Libre, Welter e Redek contro il muro. Vogliamo adesso passare alla prima pagina del quotidiano sempre sportivo, tutto sport. Forza di bala. Il talento bianconero, riporta l'articolo, deve riprendersi la Juve e convincere Allegri, mostrando carattere e adattabilità tattica. Sul fonte privato la nuova fidanzata gli ha regalato serenità. Ma c'è il contenzioso con la gente. In basso troviamo, sempre su questa prima pagina, la Ferrari subito davanti, ma con Kimi, Welter sbatte. In basso troviamo Mondiali di Volley, diretta su Rai 2 alle 21.15, tutti pazzi per il Gran d'Italia e ora l'Argentina di Velasco. Anche qui passiamo al basket. L'Italia seconda fase nelle qualificazioni, l'Italia supera la Polonia, un altro passo verso Cina 19. A destra, il Toro versione ordine, carica Bellotti e Mazzari punta al colpo. Vogliamo adesso passare, cominciare a leggere le prime pagine del Quoditiani, del Regionali, più che le prime pagine, le parti interne del Quoditiano, il centro di Pescara. La pagina interna, ci troviamo qui nella parte regionale. Abruzzo verso il voto, esplode lo scontro, il blitz di Forza Italia occupato il Consiglio. La protesta di Sospiri, Febbo e gli altri è imprevista, ma dura solo poche ore. Chiedono di andare alle urne entro il 3 dicembre e minacciano i ricorsi al Tar. Infatti, vediamo anche qui la replica. L'olio agli azzurri, la data si conoscerà tra pochi giorni. Vediamo adesso su Marchionne, la grande cerimonia nel Duomo, l'addio a Torino con tutti i parenti abruzzesi. Vogliamo adesso passare alla pagina 3, sempre degli articoli in primo piano, del Quoditiano, il centro. Bella chioma, tocca a noi, così la Lega sfida pagano. Con un post su Facebook che rivendica la corsa alla presidenza, Eosigi scende in piazza. Ma gli alleati non si preoccupano, la sua è solo una candidatura di bandiera. Vediamo, infatti, sempre sull'argomento, il raduno di Campo Imperatore e i giovani del Carroccio scaldano i muscoli. Vogliamo adesso andare avanti, sempre argomento immigrati, i nodi dell'Europa, patto di ferro tra Salvini e Orban. Presto governeremo insieme. Il nuovo percorso diplomatico è segnato anche dall'asse Italia-Austria e da un'intesa con la Germania. A surriscaldare il vertice di Vienna, un diverbio tra il ministro dell'Interno e il collega lussemburghese. Infatti, ne arrivano altri 184, verso Rimpatri Lampo. Il leader leghista ancora accusa la valletta. sempre adesso su quello che è successo ieri a Bruxelles, Di Maio frena l'UE. Il 2% sarà rispettato e tratta con Bruxelles. Obiettivo è ottenere il massimo per immagine di flessibilità, incassando la cruciale misura del reddito di cittadinanza. Vogliamo vedere il titolo in basso. All'arma di Banca Italia, il debito pubblico sale di 18,4 miliardi e tocca un nuovo record. La manovra. Il taglio delle tasse rinviato al 2020. Lega e Movimento 5 Stelle puntano ad avere una dote da circa 8 miliardi a testa. A pagina 7, sempre sul centro della provincia di Pescara, Genova si ferma e ricorda i 43 morti. Lacrime e rabbia per le vittime del crollo del ponte Morandi. La tragedia un mese dopo. Infatti, vediamo le foto. Conte, sempre sul ponte Morandi, aggiorna il commissario. Il premier assicura che il decreto per la città è pieno di fatti concreti. Russia, Gate, La Svolta, Manaforte, sono colpevole e adesso Trump trema. L'ex capo della campagna elettorale del Tikun fa un accordo in tribunale, ma la Casa Bianca precisa, nessuna delle accuse ha a che vedere col presidente. Fumo e obesità in Italia è allarme tra i giovani. Preoccupano anche il consumo di alcol e il gioco d'azzardo negli adolescenti. Rapporto presentato dal Ministro della Salute Grillo con il direttore dell'OMS. Qui ci troviamo un articolo che è successo a Bologna. Ma che taser, mio figlio, ha pestato la madre contro il questore e cita la storia parlando delle nuove dotazioni. Adesso ci fermiamo qui e poi continuiamo con la lettura dei quotidiani regionali. e vogliamo adesso lasciare spazio alla pubblicità e poi riprendiamo con la continuazione della lettura. Bentornati alla nostra trasmissione di Mattino 6. Vogliamo adesso continuare con la nostra lettura dei quotidiani del quotidiano del centro di Pescara e con la parte che ci interessa della nostra regione. Vogliamo passare al titolo Braccio di Ferro Altari I giudici Da domani la caccia può ripartire Il calendario venatorio della regione Cambiato in estremis Regge a ricorso del WWF Stop alla preapertura per le lepri Anche qui vediamo Riparte Il parco Sirente-Velino Bloccati 20.000 metri cubi Di cemento a rocca di mezzo Rinascita Delle aree terremotate L'Abruzzo firma il patto dei parchi Granzasso e Monti Sibillini Oggi ha recanato il protocollo fra gli enti Tolti a Romandini due mesi di anzianità La sentenza della disciplinare del CSM al giudice Che ha presieduto la corte d'assise del caso Bussi Vogliamo adesso spostare Sempre sull'Abruzzo La solidarietà alle Olnus Fondazioni 315.000 euro Per aiutare i volontari E su questo argomento abbiamo un servizio Che andrà in onda adesso Approvato il bando per i fondi Da destinare alla progettazione sociale in Abruzzo Carla Pansino oltre 300.000 euro Una piccola cifra che abbiamo recuperato Quando dopo due anni di vicepresidenza Nel COGI Abruzzo Come presidente dal 2014 Abbiamo rintracciato nel 2015 Dei fondi giacenti in alcune fondazioni italiane Parlo di quelle abruzzesi Oltremodo anche quelle La Cariplo, la Carige E abbiamo visto che c'erano in accantonamento Questi fondi per la progettazione sociale Abruzzo Le abbiamo recuperati e ringraziando anche le fondazioni Che prontamente hanno risposto Siamo riusciti a recuperare circa 320.000 euro Non una cifra importante come la precedente Ma sicuramente di aiuto e sostegno Per il volontariato abruzzese I fondi sono indirizzati Al progetti per il cratere sismico Riconosciuti dalla regione Quindi parlo della provincia di Pescara Di Teramo e dell'Aquila Tutte le associazioni abruzzesi possono partecipare a questo bando Abbiamo tranche da 20.000 a 50.000 euro Si può partecipare anche in rete Chiaramente chi partecipa per un progetto Non può partecipare per un altro L'importante è che Capofila sia sempre uno di via abruzzese Ci si può comunque appoggiare anche Ad altre organizzazioni di volontariato Ad altre associazioni Anzi c'è una premialità Perché il punteggio sarà più alto Quando si lavora in rete Dando modo a tutti di partecipare a progetti importanti Di sicuro sostegno Per una zona così colpita Così grande colpita dai terremoti degli ultimi anni Quindi voglio pensare anche alla provincia di Teramo Che ha subito tanti tanti danni L'Aquila e anche la provincia di Pescara Quindi abbiamo voluto indirizzare questi fondi Proprio alle necessità più urgenti Che ci sono nella nostra regione Vogliamo adesso continuare Nella cronaca di Pescara L'argomento il furbetto del cartellino Inganna l'Inps per 12 anni Dovrà risarcire Il dipendente manoprava l'orologio Marcatempo Licenziato è stato condannato Dalla Corte dei Conti A pagare 42 mila euro Aeroporto di Pescara Inaugurata la nuova sala Arrivi Sempre su Pescara Gli impianti sportivi Il simbolo della città Rinasce il Rampigna Avrà anche un museo Il comune stanzia 800 mila euro Per rifare la struttura in abbandono Vediamo sempre sull'argomento Impianti sportivi Le nuove tariffe Prezzi più bassi del 10% Per i campi e le palestre Anche su questo argomento È stato fatto un servizio Che mandiamo in onda Giuliano Dottati Il comune di Pescara Che ha dato sempre il risalto Allo sport da oggi Può vantare anche la riduzione dei costi Noi sin dal momento In cui qualche anno fa In seguito al predissesto Abbiamo aumentato in maniera importante I costi degli impianti sportivi Delle tariffe degli impianti sportivi Ci siamo sempre posti l'obiettivo Di cercare in qualche maniera Di riportarli a una cifra più accessibile Per chi fa attività sportiva Devo dire che Per ottenere questo risultato C'è stato un duro lavoro Da parte della struttura Pungolata da me Pungolata da alcuni consiglieri comunali Adesso abbiamo ottenuto questo risultato Di più non si poteva fare in questo momento Perché ripeto Noi continuiamo a stare Nella condizione di predissesto Ma questo abbassamento delle tariffe Del 10% Che poi su alcune situazioni particolari Però aumenta anche in maniera sensibile Era l'unica cosa Che potevamo riuscire a ottenere Come risultato in questa fase È stata una scelta politica Il fatto che tre impianti Il Pala Lettra 2 Il Pala Rigopiano E il Giovanni Paolo II Ritornino nella gestione diretta Da parte dell'amministrazione comunale Io ringrazio intanto Chi ha gestito gli impianti In questi anni Perché sicuramente Sono stati gestiti in maniera valida Però è stata fatta una valutazione Da tanti punti di vista E si è deciso Che l'interesse pubblico In questo momento È quello di gestire Gli impianti direttamente Vogliamo adesso spostarci Su altri fatti di cronaca Nel Pescarese Trovata morta in Piemonte La Pescarese Il fratello di Paola Voglio sapere la verità Fabrizio Dovidio Si era rivolto anche a chi l'ha visto Dopo la scomparsa della sorella A metà luglio Oggi l'autopsia Spaccia droga Agli domiciliari Scoperto e arrestato Il 26enne è bloccato dalla polizia Nell'abitazione di Via Ricopiano Inutile il tentativo Di gettare la droga Vogliamo andare avanti Asilinito Genitori presenti Se il cibo è portato da casa Il comune Le famiglie dovranno provvedere Alla somministrazione dei pasti Ma molte mamme lavoratrici Ora pensano di rivolgersi Alle strutture private Vogliamo andare avanti con la lettura Ci spostiamo nell'area metropolitana di Francavilla Il centro-sinistra Pensa al dopo Luciani Faremo le primarie Assessori pronti al commisteriamento e al voto Buttare abbiamo lavorato bene In città possiamo vincere Cronaca della zona di Montesilvano Il paradosso Stazioni e ascensori pronti Ma non sono in funzione Lavori finiti da mesi E manca l'autorizzazione Ancora l'attivazione A discapito di anziani e disabili Ferrante Carrotine determinate Solo alcuni cittadini Possono prendere il treno Vogliamo Anche qui andare avanti Ci spostiamo Sulla zona delle penne Valtavo, Popoli e Francavilla Sulla cronaca Collaudo nella scarpata Per un cindiale Manopello Le due donne ferite Rintracciate dai soccorritori Grazie al clacson Una è ricoverata In prognosi Riservata Popoli Arrivano i fondi Della ricostruzione Sono 8 milioni I primi due finanziamenti Per l'ex sede comunale La scuola Paolini Vogliamo adesso Spostarci Alla cronaca Della provincia Di Chieti Parte la caccia Al voto Il sindaco Si dimette E corsa La regione Di primo Lascia il comune Per tentare la scalata Ma la candidatura Con Forza Italia Non è certa Ha 20 giorni Per ripensarci Via Alle grandi manovre Anche in provincia Il 31 ottobre Si torna al voto Il presidente Pupillo PD Pronto per un nuovo Mandato Vogliamo Leggere Quest'articolo Che abbiamo anche Trovato Nell'articolo Di copertina Al centro Della provincia Di Chieti Tragedia San Salvo Si ribalta Con il trattore Muore schiacciato Agricoltore Di 79 anni Finisce In una cunetta Con il rimorchio Mentre vendemmia Quattro giorni fa Incidente Fatale Ad Orzogna Vogliamo Spostarci Adesso Alla provincia Di Teramo Candidature Bloccate Dai Veti Nel centro Sinistra D'Alonzo Non piace Consigliere Di Teramo Nel centro Destra Di Pietro È considerata Troppo Trasversale Teatro Romano 1100 firme Non bastano I promotori Del referendum Sempre sul teatro Di Teramo Sul progetto Le consegnano In comune Ma per lo statuto Ne servivano 3900 Vogliamo Andare avanti La zona di Giulianova Di Giulio Antonio Non ce l'ha fatta Motortolec Se consigliere comunale Deceduto Ieri Almazzini Il 75enne Di Giulianova Ricoverato Dopo l'incidente Di martedì Scorso Vediamo In basso Sempre la zona Di Giulianova Aggredì Carabinieri Patteggia Otto mesi Giulianova Il giudice Rimette in libertà Il senegalese Che minacciava Di uccidere Moglie E figli Vogliamo Andare Avanti Scuola Bus L'impresa Nel comune Di Silvi L'impresa Riassume I quattro Lavoratori Scacciati Nell'incontro In municipio Con il sindaco Come mediatore La Baldassarri Assicura Che da lunedì Autisti e assistenti Riavranno il posto L'assessore Di Giovanni Il risultato Importante Vogliamo Adesso Sempre Nel comune Di Silvi Il parcheggio Per disabili Raddoppia Messi a norma Gli stalli In via Forcella Soddisfatta L'associazione Carozzine Determinate Abruzzo L'Aquila Arrestati Per spaccio All'uscita Della scuola Tre ex studenti Fermati nel polo Di Acqua Santa Uno denunciato A casa Spuntano Marijuana Soldi E un libro Mastro Vogliamo Andare avanti Anche con La lettura Dello sport Il pescara calcio A Brescia Coco E del Grosso All'assalto Dell'amico Suazzo Vogliamo Adesso Vedere Un altro Articolo Riguarda Il teramo Calcio Teramo Amaddio Scoppia La pace E verrà Rintegrato Anche su Questo articolo Abbiamo Il video Da far Vedere E' l'ambiente Che si sta Ricreando Bello Intorno al Nostro Teramo Perché C'è un Buon Entusiasmo E poi Abbiamo una Partecipazione Così Cominciamo ad avere Una partecipazione Così importante Anche Di sponsor Di multinazionali Importanti Questa è la cosa Più Che a me Fa piacere E che oggi Il nome Teramo Comincia Anche a Girare In luoghi Importanti E credo Che si avvicineranno Ancora sponsor Molto Molto Importanti E' un Entusiasmo Quello che Leggiamo Nelle sue Parole Che può Essere Secondo Contaggioso Per la squadra Da lunedì In poi Ma io credo Che la squadra Già è Contaggiata Ci siamo visti Ieri Abbiamo parlato Anche di questo Devo dire Che i ragazzi Hanno dato Anche tanto Tutti loro Stessi Per poter Far parte Di questa squadra Quindi Vedo un ambiente Non solo Di professionisti Perché questi Devono essere Ma anche Di un attaccamento A livello Non amatoriale Ma benzi Semi professionistico Quindi I ragazzi Che si stimano L'uno con l'altro Che vanno A cena insieme Che si danno Una mano Che se uno Ha bisogno Dell'altro Ci sono Questo E' molto importante E' molto merito Di questo Secondo me Va dato anche A Zichella Perché credo Che anche Lì parte La scintilla Per far sì Che questo gruppo Sia coeso E che questo gruppo Insieme Possa fare Un buon campionato Possiamo chiederle Quale le piace di più Delle maglie Che abbiamo visto Ti devo dire Quella strisce L'ho voluta io Perché per me Quella è la maglia Più importante Ma se poi Guardiamo Le altre Con Quegli sponsor Veramente Quella di Fratangelo Era più Che forse Oggi Con la blu E' un po' più di moda Molto molto bella Anche se poi Tutti il resto Sono bellissimi E' una maglia Che è destinato A vestire E immaginavamo Di no Anche Stefano Maddio A questo punto Ma Stefano Fa parte del nostro gruppo Il problema Stefano Non era tanto legato Al valore del ragazzo Ma bensì Alla questione Dei fuori quota Che noi Ne abbiamo Sicuramente bisogno Però Anche lui Ha fatto Un gesto importante Torna insieme a noi Se sarà utile E a disposizione Quindi E' uno di noi E' un giocatore Importante Sta in rosa Poi l'allenatore Saprà Come meglio Fare Perché C'è sempre Di mezzi fuori quota Quindi Per noi E' un macigno Ma che dobbiamo Sicuramente Abbiamo terminato La lettura Del quotidiano Il centro di Pescara Vogliamo adesso Passare Al messaggero D'Abruzzo Abbiamo Visto Di primo Si dimette Vogliamo passare Alle pagine Interne Verso le urne Subito le elezioni Forza Italia Occupa la regione Infatti Qui Viene riportato Lolli Convoca Gli esponenti Azzuri La data Nella prossima Settimana In caso Di ulteriori Slittamenti Siamo pronti A ricorrere Al Tar In basso Vediamo Sull'argomento Tua Tonelli A Febbo Mi stai attaccando Soltanto Per interesse Vogliamo spostarci Anche in questo caso Sulla cronaca Del messaggero Però Della provincia Di Pescara Sconti In arrivo Per gli impianti Sportivi Tariffe Giù Fino al 60% Dal prossimo anno Finisce L'Austeri Imposta Dal predissesto Di Palazzo Città L'appuntamento Sesso e società Tema dell'anno Al festival Della laicità Vogliamo Adesso Andare avanti Con la lettura Sempre in merito L'argomento Della provincia Di Pescara Solo uno stop All'anzianità Per il giudice Romandini CSM Riconosce Le accuse Più gravi Contestate Al magistrato Del caso Bussi La visita Del nuovo comandante Il generale Carlo Cerrina Incontra i carabinieri E l'autorità Di Pescara Falso Allarme Bomba In tribunale La telefonata Partita Da una cabina Edificio evacuato Scatta il protocollo Di sicurezza L'arma E la polizia Sulle tracce Dei responsabili Vogliamo adesso Andare avanti Area Metropolitana Aeroporto Catania Sorpresa Dell'estate Nuovi numeri Record Per il collegamento Con la Sicilia E ora Saga Scommette Su Bucarest E su una rotta Intercontinentale Incidente Nella zona Di Manoppello Finiscono in un burrone Per evitare Un cindiale Vogliamo adesso Spostarci sulla cronaca Della provincia Dell'Aquila Si ritorna sempre Sull'argomento Spaccio davanti Alla scuola Due arresti E una denuncia Nuove attività Nuove attività In centro Altri 8 milioni Bando Fare centro La regione Stanza Le ultime somme Finanziate Oltre 350 pratiche Ma serviranno Ulteriori risorse Vogliamo Andare avanti Ci spostiamo Nella cronaca Di Avezzano Sul Mona Di Pancrazio Un incarico Inaccettabile L'elecce sindaco Difende Natalia La legge Peraltro Non gli dà ragione L'esposto Contro di lui Fu guidato Ma c'è poco Di consistente Sempre Andiamo Avanti Sempre sulla cronaca Questa volta Della provincia Di Chieti Sull'argomento Delle elezioni regionali Di primo Si dimette da sindaco Vuole candidarsi Governatore L'annuncio ieri Scusate In una riunione Di maggioranza Lettera Già presentata Sulla cronaca Di Lanciano Vasto E Ortona Fate merenda Poi La follia Del papà Le assistenti Sociali Aggredite Davanti alle bimbe Di 9 e 11 anni Con calci e pugni Al viso Testa, gambe Stomago All'addome La moglie Dell'uomo ha gridato Fermati Mentre le piccole Abituate alla violenza Sono rimaste inermi Di fronte a quell'ira Se ci spostiamo Nel comune Di San Salvo Il trattore Il trattore si ribalta Nella scarpata Muore un agricoltore Provincia di Teramo Bottiglie d'acqua Sospette I casi registrati Sono al Sian Probabilmente Si tratta Di un cattivo Stato di conservazione Negli imballaggi Supermarket Altri campioni Spediti all'Arta Dell'Aquita La Marconi Risposte In un paio Di giorni Sempre nella provincia Di Teramo Però nella zona Di Giulianova Roseto E Val Vibrata Rifiuti Sindaco Indacato Non mi preoccupo La zona di Roseto Così di Sabatino Di Girolamo Sul Squestro Di alcune aree Sul lungomare Triste e altre case Vicino al casello Dell'A14 Indaga La finanza Di Pescara La pubblicazione Della delibera Del comune Sull'albero petrolio E poi diventata Virale Sul web Senegalese Nel comune Di Giulianova Ubriaco Picchiò I carabinieri Pena Di 8 mesi Vogliamo Postarci Anche Il messaggero D'Abruzzo Si parla Del Pescara Devi ancora Stupire A Brescia Il Delfino Può fare bene Conferma Per Cocco Al centro Dell'attacco C'è da approfittare Del momento Critico Dei padroni Di casa Pilon Ci spera Tanto Vogliamo Teramo Teramo Pace Conamadio Lo ha deciso Campitelli Vogliamo adesso Passare Al quotidiano La città Della provincia Di teramo Di teramo Abruzzo Anche qui si parla Delle elezioni Regionali Data delle elezioni Entro la prossima Settimana L'annuncio Di lolli Ieri la protesta Dei consiglieri Di Forza Italia Che hanno minacciato Di occupare Il consiglio Qui infatti Vediamo La foto Di alcuni consiglieri Gatti Sospiri E Febbo Che durante La conferenza stampa Di ieri mattina Hanno dato Poi Si parla Da cospia Oggi Il vertice Surai In regioni Tra Salvini E Berlusconi Sulla cronaca Tra le produzioni Colpite Anche quegli abruzzesi Nessuno ci aiuta Non capiscono Che non coltiviamo Marijuana Crescono i fulti Di Cana Ma danni milionari Per gli agricoltori Vogliamo Adesso continuare Progetto Ad su Bloccato Alla corte Dei conti Un cavillo Nella graduatoria Zera leader Per i fondi E fa temere Un altro caso Bando Delle periferie Vogliamo Adesso Sempre Spostarci Su Teramo La scuola Risorge Avrà Anche la mensa Dalla giunta Via libera Al progetto Love Coast Per estendere Il servizio Della PAP E realizzare Il tempo Pieno Marroni Assessore All'80% Come morra La forzista Stefania Di Giuseppe Critica La vice sindaco Che insegna Ancora Alle scuole Superiori E qui Vediamo Anche qui La foto Del vice sindaco Il sindaco Insieme Campagna elettorale L'impegno Full time In giunta È stato uno Dei cavalli Di battaglia Di Dalberto E della civica 3.0 San Nicolò Al voto Per il comitato Di frazione Dieci candidati In lista Per la guida Dell'associazione civica All'insegna Della democrazia Domani Urne aperte Dalle 8 alle 20 Possono votare Residenti E dimoranti Con almeno 16 anni Il seggio Alla scuola Giovanni XXIII L'aggiunta Approva Il piano Anticorruzione Le misure Varate dal Commissario Integrate Con nuove Disposizioni E partecipazione E trasparenza Vogliamo Adesso Anche In questo caso Vedere Alcuni aspetti Che abbiamo Rimarcato Sotto questo Giornale Degli aspetti Molto Interessanti Noi Abbiamo visto Che ci sono Anche altri Articoli Per esempio I quartieri Di Teramo È nato Il comitato Unico Di Teramo Est Poi si parla Del verde Dopo le polizie Oggi Riapre La villa Comunale Io Abbiamo Terminato La lettura Di tutti I quotidiani Della rassegna Stampa Che abbiamo Fatto Questa mattina Sabato 15 Settembre 2018 La trasmissione Mattino 6 Riprenderà Lunedì Mattina Sempre Alle ore 8 Oggi Durante La giornata Avremo I notiziari Del Tg Quello Delle ore 14 Quello Delle ore 19 E Quello Delle ore 23 Per il momento Vi auguro Buona giornata Vi ringrazio Tutti quanti I spettatori Per averci seguito Con la nostra Trasmissione Di mattino 6 E vi diamo Appuntamento Agli altri Alla giornata Che ci affronteremo Quest'oggi Grazie Per averci seguito Grazie a tutti.